Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Bologna si registra una coda per incidenti al chilometro 336 e 300 tra Arezzo e Valdarno. Coda a tratti anche tra Firenze Nord e il Bivio A1 Variante. Viaggiando verso Roma si viaggia a rallentati tra il Bivio A1 Variante e Firenzuola. Un incidente sta causando coda a tratti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Al via i cantieri a Firenze della nuova variante Fortezza San Marco della Tramvia, che riguardano Piazza della Libertà, Piazza San Marco, Viale Lavagnini, Largo Martiri delle Foibe e Viale Milton. Circolazione ferroviaria sospesa tra Firenze di Fredi e Firenze Campo di Marte fino al 28 agosto per lavori alla Galleria Pellegrino. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie a tutti!